Chi è Zanni Egeo Diomarta? Un poeta? Un sottile ed erudito sollevatore di polemiche? Onestamente non mi sono mai posto il quesito fin dal primo momento in cui ho avuto la fortuna e il piacere di conoscerlo, quando le nostre strade si sono incrociate in grazia della comune passione per la cultura e la poesia, e forse anche a causa di qualche sotterranea e invisibile affinità elettiva che radici nelle parti più segrete e insondabili dell'animo umano. Ma senza porne alcuna domanda, Zanni mi ha sempre dimostrato un fatto basilare di importanza capitale, quello di essere un professionista e un uomo che non solo fa, ma soprattutto vive la poesia e la letteratura.